e bello a tutti ragazzi e bevamo in questo nuovissimo video io sono off e quest'oggi stiamo qua su GTA 5 online quest'oggi iniziamo a preparare la nostra gang più che gang è la nostra crew e dove devo uscire più? e per chi mi segue su TikTok ah già lo sa invece per chi mi segue su YouTube no perchè di solito si scrive queste cose non le faccio però ho pensato in effetti di fare una serie tipo quella di Tecnoid quella tipo GTRP però solo che visto che è vabbia poi venne ancora non è uscito noi la facciamo qua ancora per il momento siamo tre persone qui andrò nel mio video più divertito io ombra paurosa e ombra rossa qui andrò nel mio video ah tengo 420.000 ah io un'idea per l'outfit ancora non l'avo perchè allora noi ci chiamiamo la nostra crew non ho fatto una crew perchè ci vogliono troppo tempo troppe registrazioni tipo scarica l'app dal telefono o i fruit vai sul social club accedi crea una crew poi devi fare scarica un'immagine crew poi metti il nome della crew metti le notifiche troppe cose che devo fare diciamo che ancora io non ho pensato cosa fare con l'outfit che cosa fare con l'outfit che cosa fare con l'outfit che cosa fare con l'outfit e bomber di palio e anche giochetto più di verità con giochetto ah potremmo mettere o una baseball grigia rossa non giusto ah sì faccio poco potremmo mettere blu o blu blu reale questa qua aperta ovviamente oppure acciua 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 per gli tward allora che stavo dicendo però questa qua è una cuffia blu una cuffia blu non 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 ma che stavo l'outfit è blu non 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 ovvero poi potremmo mettere con la camina nella voranza ecco ma Lo tengo nera, verde, blu forse non c'è, blu, verde, viola, tante, signora, blu, viola, rinvolta, senape, verde, rossa, negra, farone, fiola, cartone, anche se si può pure le pezzi. Uga, nera. Ah, bocchiamo per un unifinger. Poi, passiamo alla maglietta. Ci volevo una caffola, una wu-fi o una camping. Solo che non ci sono, è duro. Nel pezzo da cabbro dovevo metto. Una canotta attillata. Non ci sono alcune mostrò le catenie. Poi, vabbè, maglie da lavoro. Maglie solita, maglia sportiva, maglia sportiva, maglia sportiva. Sì, sbagliati. no auto. ok e giusto cercando qualcosa di più recente ma i pantaloni i pantaloni sono indeciso qualcosa sul nero perché poi cacciami il cappello e faccio i capelli blu qualcosa sul bianco perché devo cambiare anche le scarpe oppure qualcosa sul blu a direi pantaloni da lavoro no perché sono questi pantaloni in casa se no potremmo fare voglio pantaloni di sotto blu scarpe bianche, capelli blu e maglia di sopra gassi però dobbiamo andare in in tabellotti pantaloni aree a bordo stai zitto perché in effetti i pantaloni voglio angeleson blu perchè sono di salato questo ve lo dico non è che fare pantaloni bianchi bianchi capo probabilmente ci sarà qualcosa di blu bambu non è proprio un obbligo avere il vestito blu e ci deve avere almeno qualcosa di blu pur una linea ma deve avere qualcosa di blu ovviamente voglio parlare insomma magari guarda lei non mi viene il nome ci vuole quei cosi americani il lato che ci sono una gang babu la nostra zona non mi viene il nome io vi faccio vedere pure qua c'è un piccolo scherminio di abitanti dove dovevo andare che me lo scordassero vogliamo mettere pure una giacca a baseball blu ecco no però quello che vogliamo quello sporchizzare io non si bianca non si bianca questa pure bella no io sono 4 mesi che non ne vengo tocca a colonna oro orecchini finestra bello pure il teschio però io tengo il diamante nero e poi cosa dobbiamo fare sciarpe gravatte collane orologi guanti ma madre quella crazy di merda cosa noi quando possiamo fare grigi boneri Grazie. 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 via bianco in genera vero invece per le cose dobbiamo andare in messa mi caro sa il aspetta una c'è un e e e e e e e e e ti sei che io sono uno che i soldi ti deve aspettare a forza per esempio io ho un po' per la mia più la torce un'altra cosa per me qui il filentatore che avevo comprato un'altra il nuova da alcune anni allo anni fa al team d'altri o massimo da la zia peppino con la grandissima non ci vedo con il titolo dc minuto tutti i video 14.1 1.1 un bel colore principale non potete vedere. poi il colore secondario il colore secondario direi un nero il tuo po il tuo po ora io. guardo. amm io ho sorella tutta a posto pischella però il tuo o i capelli li cambiamo il posto mi sto cercando di schiavelli che marco dagli occhi lo devo cambiare mi volevo ispirare al rapper visto che sono un pochino vero direi lettere c mi serve ma perchè tu giochi un pochino di sabbia no perchè viene in un altro modo tipo quella che ti vanno laterali e non quella che ti vanno solo da dietro no eh perchè come forse avete capito voglio fare travi squat questo io lo deco e tipo sono queste qua però verso all'indietro e sono un pochino di mare e 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 comunque voglio cerchiamo 15 persone visto che il massimo è 27 però non è 30 ombra e quante persone la sezione massima su inviti a quanti può essere a quando può essere fino a 30 28 quindi 28 diviso 2 15 no io ho pensato di fare 15 e 15 e e non poliziotti però voglio perché ne avevamo pensato una gang una gang rivale e i poliziotti solo che in effetti facendo i calcoli dobbiamo essere se il massimo è e 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 dobbiamo cercare altre altre persone perché possiamo fare nove nostri nove gang rivale e nove poliziotti così arriviamo a 27 e 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 Così possiamo fare il show bello figa di Tecnoid. Eh, non lo so. Dai, su, sbirri, sbirri, sbirri. Possiamo contrattare, possiamo contrattare. Possiamo contrattare. Siamo persone competenti. No, forse io un pochino di meno. Dei vostri rivelli si sono. Una signora. No, no, mi aspetta, voglio caccia del sbirri, voglio vedere questo qua. È una principessa. Signora, ma lei regala felicità agli uomini, eh. Perché voglio... Su GTRP, essendo che si possono fare le mostre, tu... Molti usano il tirapugno. Braccia conferte, così il tirapugno si nasconde tra i vestiti e non si nota. Signora, ma lei fa la... la principessa? Soltana di merda, te scugnigli. 18 euro. Via! Scappa! Dove volevo andare? Ah, nella zona del... La nostra zona, eh. Guarda, ricorda. Faffangula, mamma ta. Soltana, ti devo rispostare. È qua. Diciamo che più precisamente... Questa zona qua. Perché qua ci sono i viola. Qua ci sono i ballos. Chiamati anche i bad boy. E qua ci sono i negozi. Quindi direi di andarvi a mostrare la zona. La casa, voglio, non ci sarà là, quindi... Noi non possiamo dormire perché dobbiamo andare a salvare la città. Scusate. Dobbiamo andare a rovinare la città, cioè... Non lo so, andare a rompere le palle. Semplice. Fare questo. Listato. Frellata tattica. Lì, è il creatore del palletto tattico. Fanno quello che ho avuto. Dio, non ti spaccavo la faccia. Eh, non ti spaccavo la faccia. Quanti pezzi di me. E mi sono un merda, lo spucco la faccia. Marcheggiamo qua. Questi qua sono due posti auto più o meno più... Due posti moto. Ah, se volete come si risolve la situa, dobbiamo aspettare il giorno perché di notte non ci vedo tanto. Io, briagore del cazzo. Questa è una zona qua, qua abbiamo un negozio di piante molto bello, molto profumate, soprattutto. E non sono proprio piante normali, ma sono piante modificate, diciamo. Vabbè, per chi gioca a GTA e roba. Mio sorella, voglio spaccare la faccia, so. Oh, mi stai svitando? Cosa hai detto sul mia mamma, pezzo di merda? Eh, cosa hai detto? Ricchiazzano, però... No, 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 no. Basta, vado di me, grazie, grazie. Grazie. Non siete dei veri uomini, eh? Pisce, non sei potente, mori po' di niente. Ombro. Mio il creatore del balletto tattico, proprio mamma un bus è fantastico, giocare o Roma, oro con solo, no, i rischioni eerebbero un raining ortol polиком, se midio dove non scappare dagli sbirri tesoro e campare. لا. no il scatto lì il trattore e stai zitto di buono cazzo ricottoli il pd ms il top a diciamo che ci siamo persone solo dal rango venti in poi ecco voler dio e se uno che ne so appena preso il gioco oggi babbo tranne ombra rossa che non ci sto potendo giocare visto che è al mare poi l'importante voglio sapere giocare può essere pure un secondo account magari sul primo fine direi anche 700 e se il secondo siete direi 1 va bene comunque potete pure entrare eh ma è bassissimo ma comunque basta che avete 100 mili una macchina bella non c'entra la macchina devono avere una macchina per stare in giro la macchina per l'autoratoni no non roberto i coglioni che hai andato tu non hai capito il fatto non prende l'uomo stagio non trovo la via riuscosa facendo più giù ah dovete essere se avete già un secondo una prima account voi state giocando col secondo ma sul secondo siete bassi non fa niente ahia 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 questo è raccismo paligia paligia ma fai culo questi qua mi stanno sparando addosso aia paligia aiutato paligia sbitta fai un buon mamma no ma no ma non voglio comunque voglio se volete lasciare un bel like più per no ci vediamo c'è ciao la madre non c'è no quello non solo con bici comunque voglio da questo primo episodio di come è stato creato di come partecipare alla nostra trio lasciate un bel like commentato più in mente con quello che vi ho detto il rango nome e basta bisogna avere solo una macchina una macchina una macchina una macchina normale è una macchina per gli autoraduni perché faremo anche autoraduni all'altro poi voglio cerchiamo magari le persone più ricche fanno i poliziotti essendo sono più ricchi così si possono prendere la macchina degli sbirli no quelli più ricchi ma non c'entra un cazzo la gentia quelli più ricchi pure se magari vanno già la macchina pure modificati in qualche modo va bene potete lasciarlo però dovete avere al mano al massimo nove persone la macchina è in due posti di gioco perché poi 10 anni criminali sono due a prendetevi almeno il sud della polizia se no una macchina deve avere tre persone perché tre persone e poi servono una macchina e poi servono una macchina e poi servono una macchina due macchina sono cinque persone sette macchina sette persone tre macchine e quattro macchina si servono servono visto che gli solito gli sbirri girano in due però hai fatto la curva troppo larga devo fare più stretto un po' no no poi invece per l'altro rivale sceglieri voi un polore tipo il rosso il nuovo il nuovo piano il rosso il verde il viola il bianco un po' no perchè non mi spenderò di piano, non mi prenderò tu l'hai cambiato l'auto? bene l'hai cambiato l'auto? dai giusto sei un coglione e basta ferma figa e ciao ciao